Quando noi vediamo una ragazza a passeggiare, cosa facciamo? Noi la seguiamo e con occhio scaltro poi cerchiamo di nominare quello che c'è da capo a te. Ma le gambe, ma le gambe, ma che piacciono di più? Ma le gambe, ma le gambe, sono belle ancora di più? Due manine deliziose che sapranno accalizzare, ma le gambe un po' nervose che faranno il camorà. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu, ma le gambe, ma le gambe, sono belle ancora di più? Quando noi mi spiega dal musico, si trombò, ti guarderà, ti parlerà. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu, ma le gambe, ma le gambe, ma mi piacciono di più? Saranno belli gli occhi neri, ma le gambe, ma le gambe, sono belle ancora di più?